Nel corso della nostra carriera di fotografi può capitare, e io auguro a tutti che capiti, di dover fotografare dei negozi o delle sedi aziendali. Oggi parliamo proprio di questo, perché vi farò vedere le fotografie che sono state realizzate per uno showroom di abiti da sposa, quindi un atelier, che è anche la sede principale dell'azienda. Quindi in questo shooting sono riassunte un po' tutte le componenti della fotografia di interni, anche della fotografia corporate, della fotografia real estate, con anche un pochino di fotoprodotto. Andiamo per ordine. Innanzitutto questo è un cliente che era già stato precedentemente acquisito dall'agenzia web presso cui io lavoro, quindi non è un cliente di nuova acquisizione, è un cliente di vecchia data che va a cambiare la propria sede, va a cambiare in meglio, va a prendere una sede più grande in una posizione migliore, e quindi viene ovviamente richiesto un servizio fotografico per esaltare questo fatto. Un servizio fotografico fondamentalmente di interni, in cui si evinca che c'è una nuova sede, che la nuova sede è molto molto più bella della sede precedente, è più curata, le finiture sono state curate in ogni minimo dettaglio, i mobili sono fatti su misura, gli spazi sono stati gestiti da un architetto. Lo shooting mira proprio a mettere in luce i punti di forza di questo nuovo atelier, quindi a far vedere quanto è stato curato l'ambiente, quanta raffinatezza c'è nei particolari, in generale serve a dare un'idea di quella che è la nuova sede. Quindi lo scopo principale è far percepire che c'è stato questo cambiamento di sede, quindi le immagini hanno l'obiettivo da un lato di aggiornare il sito web, quindi far vedere immagini vere di interni della nuova sede. In secondo luogo verranno utilizzate sui social, perché comunque la pubblicità sui social media è molto importante per attirare nuovi clienti e anche clienti vecchi che magari fanno una capatina. Andiamo a prendere in rassegna la strumentazione utilizzata. Come molto spesso capita ho utilizzato una camera molto vecchia, perché sto utilizzando la mia bellissima Canon EOS 5D Mark II, una camera di cui vi ho parlato in un video precedente che fra l'altro è andato abbastanza bene, per cui ve lo rilinco in card. Se volete qualche informazione in più su questa camera, che è oltremodo attuale, perché secondo me offre ancora oggi una qualità incredibile, nonostante siano passati diversi anni dalla sua data di uscita, se volete andare a scoprire qualcosa di più su questa camera vi lascio la card. Si tratta di una camera a mio parere assolutamente superlativa, in quanto ci restituisce un file d'uscita molto complesso, molto bello da lavorare e assolutamente professionale anche ai giorni nostri. Tenete conto che, come vi dicevo prima, queste immagini vanno per il sito web e per i social media, quindi stiamo parlando di un 20 megapixel che dovrà però andare a essere scalato di parecchio, perché sul sito sarà in risoluzione Full HD, quindi sarà 1920 per qualcosa, risoluzione standard dei monitor più o meno, tanto ormai tutti guardano su mobile, quindi è perfino troppo. Verrà quindi scalata di parecchio, stiamo parlando di un 5000 pixel di lato lungo che verranno scalati alla metà, circa 2000, quindi queste foto sono molto più grandi di quello che serve. Nonostante sia una camera vecchia, perché ormai è una camera assolutamente datata, ancora oggi ci si può lavorare perché ha una risoluzione che era più che sufficiente a coprire tutti gli standard di dieci anni fa, è ancora sufficiente a comprire la maggior parte degli standard di oggi. Considerate anche che gli standard sono scesi, perché se una volta si faceva molta più pubblicità su carta stampata, su cartellonistica in store e cartellonistica su strada, quindi serviva risoluzione maggiore, adesso la risoluzione che serve è minore, perché tanto finisce tutto solo su Instagram, quindi 1000 pixel di lato, 1000x1000 o 1300x1000 se vogliamo fare la verticale, quindi in realtà la risoluzione necessaria è calata, quindi con una camera del genere siamo assolutamente scafati, facciamo tutto quello che vogliamo, perché è una risoluzione che ancora oggi è superiore a quello che è richiesto nel 90% dei casi. Come lente ho utilizzato una combinazione a cui sono molto affezionato, ovvero ho abbinato al mio corpo macchina la lente di Canon EF17-40. È una lente che a me piace molto perché ha una lunghezza focale con cui mi trovo molto molto comodo a lavorare, perché comunque 17 non è un 16, quindi non è il 16-35, ha un pochino meno di grand'angolo, però arriva a 40 sullo zoom e quindi ci si può fare anche qualche zoomata un pochettino più prepotente rispetto al 16-35, quindi diciamo che compensa molto bene quello che gli manca da una parte e ce l'ha dall'altra parte. Siamo sempre su F4 diaframma fisso, quindi è una lente con l'anello rosso, quindi anche se è la lente di serie L che costa di meno in assoluto stiamo comunque parlando di una lente di qualità. Ha un po' di vignettatura, ha un po' di distorsione a barilotto, ma quelle sono cose che con un profilo lente all'interno di Lightroom o di Camera Raw si aggiustano con un click, quindi non mi preoccupo assolutamente. È pur sempre vero che questa lente rimane un pochino morbida sui lati, è molto nitida nel centro e un pochino morbida sui lati, soprattutto alle aperture massime, ma io andrò a lavorare prevalentemente a F8, F9, magari anche F11, quindi vado a mitigare questo fatto. Non mi preoccupo più di tanto di questo tipo di fenomeno, perché comunque io andrò a lavorare esclusivamente su cavalletto, quindi esclusivamente in HDR facendo i miei tre scatti. La profondità di campo sarà sempre la massima possibile, perché lavorerò quasi sempre a 17 mm e quasi sempre tra F8 e F11, quindi la mia messa a fuoco sarà assolutamente perfetta e non mi preoccupo granché di morbidezza sui lati, perché tanto sono foto di interni, quindi nessuno andrà a zoomare a vedere un dettaglio di un angolo di un tappeto che sta in basso a sinistra, per intenderci. Ovviamente per realizzare gli scatti mi avvalgo di un comando remoto, quindi come sempre utilizzo il mio fedelissimo Canon RC6, telecomando wireless che serve solamente ad attivare lo shutter. In questo modo io ovviamente posiziono la mia camera, vado a scattare e non ho problemi di sorta, perché non sto toccando la camera e quindi la camera non si muove. Come sempre sto utilizzando il mio treppiede Manfrotto, di cui sono stracontento perché è un treppiede che non pesa tantissimo, anche se ha un bel peso e a me piace questa cosa, perché i treppiedi leggeri non vanno bene, non funzionano, sono tutti ballerini, non stanno su bene, quindi io quando ho un treppiede bello pesante sono contento. Devo dire che questo è pesante ma il giusto, perché comunque ha un peso che ti fa percepire la qualità di quello che stai trasportando, è bello stabile, però non è un macigno, cioè non è fatto di metallo pieno che ti spacchi la schiena, è una cosa tranquilla che ci sta da portare in giro, ma quando lo metti giù lo senti proprio che non si muove più, gli devi dare un calcio per spostarlo. Quindi treppiede Manfrotto che utilizzo quasi esclusivamente in orizzontale. Ora io quando realizzo un servizio fotografico di questo tipo preferisco lavorare in orizzontale piuttosto che in verticale. Lo so che molti diranno, eh ma ormai si ragiona esclusivamente sulle stories che le stories sono verticali. È vero, considerate due cose. La prima cosa è che un negozio non è a sviluppo verticale, un negozio è a sviluppo orizzontale. Perché nel momento in cui noi entriamo non siamo in un tunnel. Se fosse stato un tunnel, cioè è così, allora dici vabbè la faccio in verticale. Ma non è un tunnel, è una stanza. Una stanza ha un orientamento orizzontale. Quindi io vado a rendere al massimo quella che è la stanza prendendo più stanza possibile. Io ho fatto delle foto verticali ovviamente durante questo shooting. Esistono dei casi in cui io preferisco scattare in verticale perché magari è funzionale a quello che voglio ottenere. Perché magari voglio prendere solo una porzione della scena escludendo un'altra parte e quindi il verticale in quel caso mi aiuta. Oppure mi sono avvicinato particolarmente a una componente e voglio prendere solo quella componente escludendo qualcos'altro e quindi mi viene bene lavorare in verticale. Tuttavia nel momento in cui stiamo fotografando l'interno di un negozio, di una stanza, di un qualsiasi interno e andiamo a lavorare in verticale vedete che cosa succede? Stiamo prendendo una parte della stanza, stiamo prendendo tantissimo soffitto e tantissimo pavimento. Ora il fatto di prendere tanto soffitto e tanto pavimento è inutile, non sta dando assolutamente niente al nostro cliente perché un soffitto e un pavimento è ovvio che ci sono in un negozio come ci sono in qualunque tipo di interno quindi è inutile quella roba che stiamo prendendo. Se noi facciamo vedere che il negozio è grande, lo facciamo vedere nel suo sviluppo orizzontale, stiamo dando qualcosa di più al nostro cliente perché stiamo facendo vedere quanto è ampio lo spazio. Se lo stiamo facendo in verticale invece stiamo solo facendo vedere a chi ci segue da casa, a chi vede la foto, stiamo facendo vedere che sì, c'erano un soffitto e un pavimento. È inutile. Non so se sono riuscito a trasmettervi bene questo concetto però vi invito a provare a questo punto. Fate delle prove, magari anche in casa vostra. Provate a fare una foto orizzontale e lasciamo perdere casa vostra, può essere bella o brutta, non è questo il punto. Il punto è che facciamo finta di essere in un salotto. Se in orizzontale riuscite a prendere magari dal divano fino al televisore, ipoteticamente, in verticale riuscite a prendere solo il divano o solo il televisore. È vero o no? E quindi che cosa state raccontando di quell'interno che state fotografando? Che c'è solo un divano? O che c'è solo un televisore? Nel momento in cui fate una foto orizzontale raccontate che c'è un salotto con un divano e un televisore. È più completa. Così forse sono riuscito a farvi capire un pochino il concetto. Ci sono altri motivi per cui preferisco lavorare in orizzontale. Al di là della mia preferenza personale. Perché io sono nato, cresciuto e spero di morire con i schermi cinematografici. Quindi il cinema si sviluppa in orizzontale ed è una cosa assolutamente naturale perché i nostri occhi sono in orizzontale. Perché siamo bipedi che vivono su questa terra e come la maggior parte dei mammiferi e degli animali abbiamo gli occhi posizionati in questa maniera. Perché? Perché questo è l'orizzonte. Perché questa è la terra su cui camminiamo tutti i giorni. Quindi noi abbiamo una visione ampia in questo senso perché ci muoviamo su una terra. La terra credo che sia sferica, mi hanno detto. Però fondamentalmente noi la percepiamo come piatta. E quindi abbiamo una visione piatta della terra. Abbiamo una visione che si sviluppa in orizzontale. Perché originariamente eravamo o prede e dovevamo individuare i cacciatori oppure eravamo cacciatori e dovevamo individuare la preda. Comunque la nostra vista si sviluppa in quel modo. Questo cosa vuol dire? Significa che nel momento in cui io osservo un'immagine orizzontale avrò una percezione più naturale di quell'immagine. È più naturale perché è come sono abituato a vivere il mondo che mi circonda. Fateci caso. Provate a mettere le mani così. Voi le vedete entrambe le vostre mani. Provate a portarle indietro. Vedete com'è ampio il vostro campo visivo in orizzontale. Non è altrettanto ampio in verticale. Perché qui le mani sono già fuori dal mio campo visivo. Vedete che è di meno. Io qui le vedo ancora. Qui sono fuori dal mio campo visivo. Perché in verticale abbiamo meno visione. Quindi questo ci porta anche a trarre delle conclusioni sul tipo di device che utilizziamo tutti i giorni. Perché quando noi fruiamo delle cose su un cellulare le stiamo fruendo a metà in realtà. Il cellulare, come amo dire io, la metafora che mi piace spesso usare, è come guardare le cose attraverso una porta socchiusa. Vi è mai capitato di essere di fronte a un bel paesaggio? Quando siete davanti a un bel paesaggio lo abbracciate con lo sguardo. Lasciate che i vostri occhi spazzino. Quando guardate una cosa su un cellulare i vostri occhi non possono spaziare. Perché entrambi i vostri occhi devono concentrarsi su una cosa verticale, a fettuccina. È come guardare attraverso una porta socchiusa. È come stare spiando qualcosa. E quando spii non vedi bene, vedi male. La cosa è funzionale ovviamente perché è una scelta di ergonomia perché così riusciamo a tenerlo bene in mano. Vengono testate sulle scimmie queste cose. Non so se lo sapevate. Avevo letto un articolo diceva proprio che i display touch vengono testati su babbuini, sui macacchi e sui bonobo. Quindi se una scimmia riesce a usare quel device allora va bene anche per il grande pubblico. Questa è una cosa che già vi dovrebbe far riflettere. In secondo luogo viene pensato questo dispositivo sapendo benissimo che poi la gente l'avrebbe usato mentre camminava in giro. Quindi è un dispositivo fatto per non occupare completamente il nostro campo visivo ma solo una parte. In questo modo io riesco a camminare guardando il cellulare perché con l'altro occhio tengo d'occhio la strada e vedo dove cammino. Poi lasciamo perdere che la gente lo usa anche in macchina si schianta, cade dal marciapiede eccetera perché continua a camminare col telefono in mano. Voi non avete idea di quanta gente ho visto andare a sbattere contro il palo della luce in pieno perché sta guardando il telefono. Già con un display di quel tipo che non occupa per intero il campo visivo ma solo una minima parte già la gente si schianta. Quindi anche per quel motivo non è stato fatto un display più grande perché se copriva per intero il campo visivo ci schiantavamo tutti ed era un macello. Ciò detto però nel momento in cui io scatto in orizzontale sto restituendo un tipo di visione più vicina a quella che percepiscono i miei occhi. Quindi è una cosa che poi risulterà più naturale e più gradevole alla vista. Ovviamente se stiamo fruendo le cose da un cellulare e vediamo una foto orizzontale la vediamo sul display verticale la vedremo più piccola. La vedremo più piccola perché quello è un device penalizzante ma è penalizzante a prescindere. Sarebbe penalizzante a prescindere perché comunque stiamo osservando attraverso una porta socchiusa quindi comunque non possiamo vedere la scena intera su un cellulare. È il cellulare che è sbagliato non l'immagine. Inoltre considerate anche questo nel momento in cui andiamo a mettere le nostre immagini su computer sul sito web risulteranno giuste per un monitor più grande. Tenete anche conto una cosa è vero che il 90% delle persone sta in giro per strada e fruisce le cose sul telefono ma è vero anche che quelle poche volte nella vita in cui vi capita un cliente davvero davvero importante quel cliente probabilmente il tempo per valutare le vostre immagini a computer se lo prende e se è un cliente veramente importante avrà anche un buon monitor per cui un conto è la distribuzione al grande pubblico e lì conta poco perché tanto lì le nostre immagini finiscono su Instagram vengono rifilate probabilmente quadrate e lasciano un po' il tempo che trovano perché ormai non si può più fare la differenza su Instagram con delle foto di interni però la differenza la si può fare globalmente scattando delle buone immagini che poi accompagnano il cliente anche per un lungo periodo in questo caso le immagini finiscono anche sul sito web dove sicuramente avranno una resa molto superiore che su Instagram perché saranno magari a pagina intera un cliente che finisce sul sito web da computer è tendenzialmente un cliente che ha più soldi da spendere quindi nel momento in cui noi realizziamo un servizio fotografico a sviluppo orizzontale stiamo ammiccando a un cliente che spende di più con questo non voglio dire che scattare in verticale sia sbagliato assolutamente esistono dei casi in cui è inevitabile scattare in verticale esistono dei casi in cui è giusto scattare in verticale e comunque non sto dicendo che chi scatta in verticale andrà a beccare dei clienti che pagano di meno non è questo il ragionamento il ragionamento però è non disdegniamo le foto orizzontali non disdegniamole per il cellulare perché il cellulare è una cosa di massa quindi è una cosa che non punta in alto ma punta in basso perché la massa è una cosa bassa quindi è una cosa standard nel momento in cui noi realizziamo le foto per le stories ma a quel punto facciamole tranquillamente con l'iPhone perché tanto non cambia niente quando noi andiamo a fare un servizio fotografico fatto bene in questo senso lo facciamo a sviluppo orizzontale perché non stiamo puntando a far vedere l'immagine sul telefonino alla sciurapina che cammina per strada ma stiamo puntando a un cliente potenzialmente abbiente che visita il sito web e si fa un'idea precisa del negozio e ricordatevi sempre una cosa che io ho imparato a mie spese è che non smetto mai di imparare anno per anno è molto meglio nella vita cercare di puntare a un cliente alto piuttosto che a un cliente basso per almeno due ottime ragioni la prima se puntiamo un cliente alto arrivano anche i clienti bassi non è mai vero il contrario vi faccio un esempio pratico se io metto in vendita una Tesla io così prendo un'auto Tesla e la metto in vendita sicuramente arriveranno dei clienti facoltosi che diranno è una Tesla voglio la Tesla e se la prendono però arriveranno anche dei curiosi che mi chiederanno ma quanto costa la Tesla quindi in questo modo io li ho a tratti entrambi perché entrambi verranno a chiedermi magari informazioni e anche una persona che non è particolarmente ricca magari decide che ha dei soldi da parte che ha un'assicurazione da riscuotere che ha un bonus da spendere e magari decide di farsi questo regalo vi faccio notare che il contrario invece non succede mai perché un cliente abbiente non viene mai a comprare una panda di terza mano a un concessionario di periferia quindi la mia filosofia è questa se puntiamo a un pubblico alto stiamo in realtà agganciando tutti i pubblici possibili perché se noi facciamo una cosa alta le cose alte fatte bene piacciono a tutti piacciono a chi se le può permettere piacciono anche a chi non se le può permettere quindi in questo modo stiamo agganciando tutti i pubblici possibili qual era l'altro motivo? considerate anche che lavorare in un certo modo lavorare per uno standard alto vi porterà altri clienti di fascia alta quindi è doppiamente un bonus per noi inoltre c'è anche da considerare una cosa di natura assolutamente economica quindi può anche risultare un po' sgradevole questo discorso però io ve lo devo fare per forza per onestà intellettuale perché anche se siamo degli amatori anche se ci stiamo divertendo anche se lo facciamo per passione comunque dobbiamo tener conto che le nostre risorse non sono illimitate quindi anche se io lo sto facendo per passione non posso passare la mia intera giornata a farlo per passione perché da qualche parte la corrente elettrica per illuminare la luce che mi sta riprendendo in questo momento devo tirarla fuori per cui arriva un momento che devo farmi un paio di conti e allora mi dico ma io che cosa devo fare devo lavorare 10 ore per 10 clienti che mi danno 10 euro oppure posso lavorare un'ora per un cliente che me ne da mille perché è questa la forbice nel momento in cui noi andiamo a lavorare per tantissimi clienti che ci danno pochissimo probabilmente è la scelta più facile perché clienti disposti a pagare pochissimo sono tantissimi il problema qual è che in questa maniera ci ingolfiamo ci riempiamo di clienti ognuno vuole il suo pezzettino perché ogni cliente ci ha dato un euro e quindi ogni cliente vuole la sua mezz'ora però in questa maniera se noi andiamo avanti a mezz'ora un euro mezz'ora un euro mezz'ora un euro alla fine della giornata e abbiamo lavorato otto ore e ci siamo portati a casa una miseria invece se andiamo a beccare un cliente che è disposto a darci 100 euro l'ora sono di meno e sono più difficili da prendere i clienti che pagano così tanto sono di meno sono più difficili da prendere sono più difficili da tenere però bisogna puntare quelli bisogna puntare quelli anche per il motivo che vi dicevo prima ovvero che se noi puntiamo quello poi ci arrivano anche le richieste più piccole perché quelle arrivano sempre anche se noi offriamo un servizio migliore più costoso arriva sempre qualcuno che ci dice senti ma io ho un budget di tot non è che me lo fai lo stesso ci provano sempre e noi di volta in volta possiamo anche dire guarda siamo amici piuttosto che mi sei simpatico piuttosto che mi piace la tua azienda voglio aiutarti quindi magari ti faccio un prezzo differente magari voglio io a portfolio le immagini che tu mi chiedi quindi facciamo questo scambio io ti faccio un prezzo di favore tu mi lasci usare le immagini per i miei scopi esistono tante combinazioni possibili però noi partiamo dall'alto perché se partiamo con un lavoro alto fatto bene possiamo scendere se partiamo con un lavoro fatto male non possiamo salire ripeto con questo non voglio dire che scattare in verticale automaticamente vi mette in una condizione di sudditanza per cui poi non prendete clienti buoni e non sto dicendo questo sto solo dicendo che il fatto di scattare in orizzontale va a concorrere su più livelli a questa cosa ovvero da un lato stiamo scattando in una maniera che è più consona al nostro modello biologico di osservazione quindi orizzontale come i nostri occhi in secondo luogo stiamo lavorando su delle immagini che verranno probabilmente fruite da chi se lo può permettere su un computer di fascia alta su degli schermi di fascia alta che sono orizzontali perché i monitor sono orizzontali quindi noi stiamo andando a dare al nostro cliente che potenzialmente paga di più la cosa migliore per lui certo stiamo magari scontentando milioni di persone che tutti i giorni fruiscono i nostri contenuti via stories di instagram e che non comprano mai niente perché non possono permetterselo bisogna anche fare questo ragionamento ripeto mi rendo conto che è sgradevole ma bisogna assolutamente pensarci a un certo punto io vi consiglio sempre di lavorare in orizzontale sempre con poche eccezioni queste eccezioni sono prevalentemente quei tipi di immagini che hanno uno sviluppo verticale è evidente che se stiamo facendo un ritratto è una persona e ha sviluppo verticale il ritratto viene meglio in verticale lì siamo tutti d'accordo se stiamo fotografando una bottiglia come vi faccio vedere in altri video che ho fatto quando si va a fotografare una bottiglia lì sono d'accordissimo che si usi il verticale ma lì è per riempire il frame con una cosa che altrimenti butterebbe via tantissimi pixel vi faccio notare che io in questo momento nella ripresa che sto facendo stiamo buttando via moltissimi pixel perché questa è una ripresa orizzontale questi pixel dove io metto le mani adesso sono sostanzialmente buttati perché io sono qua quindi questi pixel vengono praticamente buttati via non servono non sono indispensabili perché quello che voi state guardando sono io che sono a sviluppo verticale sono qua nel mezzo in questo senso questo spazio potrebbe essere buttato in questo caso è una ripresa elegante perché comunque è un 16 noni con una sua eleganza anche con le lucette fatte in un certo modo insomma io cerco di abbellire la scena come posso purtroppo ci devo essere anch'io nella scena che vi parlo quindi un po' tiro giù il livello però capite che cosa voglio dire nel momento in cui fotografo una bottiglia ed è una foto prodotto ovviamente io voglio riempire il mio frame il più possibile con questa bottiglia quindi è ovvio che la vado a scattare in verticale esiste un tipo di orientamento per ogni scenario possibile secondo me nella fotografia di interni real estate e shop tour l'orientamento giusto da usare è quello orizzontale punto poi ripeto ho fatto delle foto in verticale durante questo shooting le ho fatte perché in quella particolare situazione era il modo migliore magari per escludere un pezzo di scena che non riuscivo a includere per intero per dare una visione diversa di quel particolare angolo del negozio ma il 90% delle foto che ho fatto sono tutte orizzontali questo mi dà anche un minimo di vantaggio nel momento in cui utilizzo i cavalletti perché tiltare la camera in verticale come avevo già detto in video precedenti può darvi qualche grattacapo nel senso che a seconda del tipo di treppiede che state utilizzando se la vite non è stretta bene o se comunque un treppiede è un po' datato usurato magari mettendo la camera in verticale la vite cede un pochino e la camera si muove se la nostra camera bascula mentre stiamo facendo gli scatti HDR se si muove durante i tre scatti poi arriviamo a casa e gli scatti non collimano più quindi abbiamo fatto un bel pasticcio ovviamente dovremo cercare di lavorare con un treppiede che ci consente di fare questo lavoro agevolmente quindi un treppiede stabile però non tutti ce l'hanno e comunque i treppiedi si usurano quindi può essere che incappiamo in quel rischio anche a nostra insaputa magari il nostro treppiede è arrivato al punto di cottura in cui la camera si muove proprio in quello shooting noi non lo sappiamo e ci siamo giocati uno shooting anche per questo motivo non mi piace particolarmente mettere la camera in verticale ora di recente mi sono cimentato diverse volte con la fotografia con i filtri in particolare ho utilizzato filtri ND e filtri polarizzatori durante questo shooting non ho utilizzato questi filtri perché ero all'interno vi dico questa cosa per dirvi che normalmente avrei utilizzato il polarizzatore per scattare dall'esterno per fare le vetrine perché il polarizzatore aiuta molto a rimuovere i riflessi indesiderati posto che comunque per scattare le vetrine bisogna aspettare che il sole cominci a calare oppure che non sia ancora sorto in maniera tale da avere l'illuminazione dentro come fonte principale di illuminazione e così riusciamo a fotografare fuori per dentro senza avere il riflesso del fuori sulle vetrate del negozio non l'ho fatto durante questo shooting e quindi non posso mostrarvele non l'ho fatto per due motivi il primo è che pioveva quindi sarebbe stato proibitivo e il risultato finale non sarebbe stato un granché il secondo motivo è che non sono ancora state montate le insegne quindi punto vendita è nuovo è terminato l'interno del punto vendita è terminato ma le insegne non erano ancora state montate quindi sarà necessario tornare una seconda volta per realizzare gli scatti degli esterni con le insegne montate ovviamente in quell'occasione mi sincererò di controllare se è cambiato qualcosa all'interno del negozio se è stato magari abbellito qualcosa aggiunto qualcosa verranno fatte comunque altre foto però sarà necessaria una seconda visita proprio solamente per fare gli esterni dovendo quindi scattare solamente gli interni negli interni non servono filtri perché tanto dentro di riflessi non ce n'è e comunque sarebbero riflessi difficili da gestire con un polarizzatore in interni quindi niente filtri scattiamo così liscio liscio andiamo ovviamente a realizzare gli scatti mantenendo le linee verticali sempre dritte questa è una cosa che all'inizio vi verrà un po' scomoda perché è difficile perché bisogna stare attenti perché bisogna imparare dove guardare bisogna avere un punto di riferimento tale da dire ok io so che sono dritto sul lato sinistro e so che sono dritto sul lato destro mi assesto in modo da evitare linee divergenti e convergenti devo sapere dove guardare devo prendere un riferimento che sia giusto vi faccio un esempio in uno shooting come questo io prendo come riferimento i muri sto molto attento a prendere come riferimento invece gli stand gli stand a cui sono attaccati gli abiti da sposa perché ci sono degli stand con delle bacchette che sorreggono i vestiti ora qual è il punto se io prendo come riferimento un muro e il muro è lì è dritto dritto di qui dritto di lì e io sono a posto il muro è dritto per forza di cose o quantomeno attenzione dovrà sembrare dritto nelle nostre foto perché comunque l'osservatore percepirà i muri come linee verticali dritte se io prendo come riferimento una cosa che non è perfettamente dritta lì è un po' un pasticcio se io prendo per esempio come riferimento gli stand uno stand imbarda lievemente perché ha il peso degli abiti da sposa che sostiene quindi pian piano tende a imbarcarsi un pochettino e se io ho preso quello come riferimento alla fine finisce che quello diventa dritto e il muro è storto quindi diciamo che ho commesso un errore di valutazione che poi mi storta un pochino tutta la foto e lì poi faccio fatica a correggere perché ho preso una cosa storta come punto di riferimento e quindi è tutta un po' stortina la mia foto devo stare attento a questa cosa devo prendere come punti di riferimento delle cose che siano dritte veramente quindi i muri i stipiti delle porte a un certo punto se lo stipite della porta è storto e a quel punto tanto noi lo dobbiamo far sembrare dritto lo stesso quindi facciamolo sembrare dritto poi andiamo a correggere lievemente in post produzione e così ce la caviamo però uno stand che poi sembra storto è motivabile perché dici sai è uno stand in barca se invece abbiamo sbagliato abbiamo fatto uno stand storto l'abbiamo fatto dritto e poi c'è il muro che imbarca dall'altra parte quello è proprio un errore a livello di stile fotografico di fotografia di interni quello è forse il peggiore errore che possiamo fare quindi le linee devono essere dritte ovviamente con la pratica diventa sempre più facile farle dritte già in camera devo dire che allo stato attuale delle cose io mi avvicino moltissimo a quella che sarebbe la foto perfetta in camera cerco di farlo il più possibile perché so già che dopo in post produzione la recupero un pochino so già che uso il pannello geometri di camera raw e quindi raddrizzo le linee so anche però che nel momento in cui lo faccio vado a perdere qualche pixel quindi devo stare se so che sono un pochettino carente di bilanciamento so che devo stare un pochino più indietro perché devo avere qualche pixel di margine che verrà sacrificato per raddrizzare la mia immagine questo è importante da sapere dipende anche dall'obiettivo che abbiamo ricordiamoci sempre che se le immagini devono essere stampate dobbiamo comunque stare un po' più indietro per avere più margine perché se l'immagine deve essere stampata dobbiamo calcolare che almeno 3 mm verranno sacrificati quindi dobbiamo avere un po' di immagine in più che venga rifilata se deve essere stampata questo non è il mio caso perché io immagino che verranno usate solamente per scopi digital quindi sito web comunicazione social quindi non ho quel problema come punto di partenza principale del mio shooting tuttavia so già che sacrificherò almeno una decina di pixel per lato in certi casi per raddrizzare certi angoli che magari non sono riuscito a beccare dritti in camera attenzione certi angoli sono impossibili da beccare in camera perché le architetture non sono perfettamente in bolla ci sono sempre dei muri che sono un po' stortignacoli da una parte o dall'altra non sono mai perfetti drittissimi quindi dobbiamo anche avere noi l'occhio di dire io cerco di farli sembrare dritti anche se in realtà non lo sono poi li corrego in camera però perdo qualche pixel intorno perché nel raddrizzare nel deformare la nostra immagine qualche pixel viene sacrificato possiamo recuperarli in qualche modo in camera raw possiamo andare a ricostruire le parti mancanti certo ma è tutto lavoro in più invece se noi stiamo un passettino indietro rifiliamo siamo già a posto e come vi dicevo prima il formato su cui stiamo lavorando quindi 20 megapixel della Canon 5D Mark II è più che sufficiente per fare quel rifilo senza perdere praticamente niente si può stampare anche su un formato medio grande una foto fatta con una camera come questa quindi non esistono problemi di sorta passiamo a dire due paroline sull'esposizione in un punto vendita come questo in uno showroom in un atelier abbiamo un ambiente che è abbastanza luminoso tutto sommato perché comunque deve dare un'idea di lucentezza abiti bianchi quindi diciamo che la luce che entra si diffonde bene perché è tutto molto chiaro molto pannoso non è un punto vendita scuro e cupo ecco mi è capitato in passato di realizzare fotografia di showroom per negozi di mobili magari e lì si ammiccava magari un pochino di più al settore del lusso lì c'erano le pareti nere c'erano degli spotlight che illuminavano solo i prodotti e lo showroom era fondamentalmente scuro era una sorta di una passeggiata un po' noir all'interno di questo negozio dove c'erano delle macchie di colore e di luce illuminate che erano i prodotti però era fondamentalmente uno showroom abbastanza scuro qui al contrario siamo su uno showroom abbastanza chiaro questo è un vantaggio perché ovviamente abbiamo un pochino più di luce e ovviamente abbiamo meno contrasto tra i prodotti esposti che in questo caso sono gli abiti da sposa i faretti degli spotlight del negozio il contrasto è difficile da gestire perché nel momento in cui noi andiamo a scattare la nostra fotocamera ha una gamma dinamica cioè è in grado di catturare una differenza tra le ombre e le luci che arriva fino a un certo tot non oltre quindi oltre quel certo tot noi avremo le ombre completamente nere e le alte luci completamente bianche quindi avremo dei dettagli mancanti perché nel momento in cui nella nostra foto si supera quella soglia i neri saranno nero a 100% e quindi non ci saranno informazioni da recuperare in quelle aree i bianchi saranno bianco 100% per cui parimenti non ci saranno informazioni da recuperare nelle aree chiare questo ovviamente è un problema perché avremo una foto molto contrastata non è professionale una foto molto contrastata vi spiego perché vi faccio questo parallelo col cinema se ci fate caso il cinema è fondamentalmente un'esperienza a contrasto basso nel cinema abbiamo un contrasto molto ridotto fate caso anche che nella filmografia recente abbiamo una marea di film che sono incredibilmente sottoesposti guardate l'esposizione che c'è su di me in questo momento un'esposizione come questa è molto chiara per il cinema nel cinema avremo delle esposizioni molto più basse non so se avete visto immaginatevi un Harry Potter immaginatevi che vi posso dire immaginatevi 300 immaginatevi tutta una serie di film che avrete sicuramente già visto fateci caso l'esposizione è molto tirata indietro abbiamo delle scene molto scure abbiamo dei neri che non sono mai magari nero pieno salvo il caso di qualche graphic novel perché nel cinema abbiamo sempre un po' di fade sui neri quindi i neri non arrivano quasi mai al nero 100% però comunque abbiamo una tendenza a stare sulle ombre perché abbiamo una tendenza a non avere mai i dettagli di luce le alte luci bruciate è un ragionamento che si fa sul cinema perché comunque i neri il nostro occhio li percepisce come naturali in qualche maniera i neri esistono nella vita di notte quando è notte e buio il nostro occhio percepisce il nero pieno quindi è una cosa che per noi è naturale mentre la luce bruciata non è una cosa naturale quando noi guardiamo il cielo non percepiamo mai una luce bruciata sì forse è giusto il puntino del sole che fra l'altro ci distrugge la cornea se lo guardiamo ma se guardiamo le nuvole non le percepiamo mai come un'area bruciata le percepiamo come nuvole quindi per dare un'esperienza più realistica possibile al cinema si tende a favorire le alte luci che non devono mai essere bruciate per dare un risultato più gradevole più naturale a chi guarda vi dico questo per spiegarvi come mai si ragiona sul contrasto basso si ragiona sul contrasto basso perché i nostri occhi hanno un tipo di visione che è più simile a un contrasto basso noi non ce ne rendiamo conto in realtà i nostri occhi hanno una gamma dinamica che non è tanto lontana da quella della fotocamera tutto sommato però i nostri occhi variano i nostri occhi sono due sono mobili e variano di continuo se ci fate caso vedete la nostra pupilla provate a mettetevi in due o mettetevi allo specchio ed esaminate la vostra pupilla vedrete che a seconda che ci sia più o meno luce la pupilla cambia dimensione è fondamentalmente un diaframma fotografico nel momento in cui noi osserviamo una scena con un'elevata gamma dinamica con i nostri occhi se io sto guardando dentro un appartamento la mia pupilla ha un certo diametro e quindi lascia entrare una certa quantità di luce se io mi giro e guardo fuori dalla finestra immediatamente la mia pupilla si restringe e quindi cambia la mia percezione della luce il mio occhio avrà una percezione di un contrasto basso costante perché comunque si adatta e quindi dice vabbè dentro ci vedo bene fuori ci vedo bene ergo il mio occhio percepisce bene tutto se vi mettete a metà strada e vedete metà dentro e metà fuori vi rendete conto che non è così perché a quel punto il vostro occhio dovrà scegliere se sarà invaso da tanta luce la vostra pupilla sarà costretta fisiologicamente a restringersi e quindi vedete buio l'interno proprio fate la prova se vi posizionate a metà e avete l'occhio che viene investito dalla luce dell'esterno farete fatica a vedere dentro lo vedrete più buio nel momento in cui invece entrate e non prestate più la vostra pupilla alla luce dell'esterno immediatamente l'interno vi sembrerà più luminoso quindi succede anche al nostro occhio questa cosa solo che sul nostro occhio viene gestita biologicamente dalla nostra iride dalla nostra pupilla e dal nostro cervello che comunque compensa e ci fornisce una chiave di lettura di quello che stiamo vedendo continua in camera questo non è possibile quindi noi stiamo lavorando in una situazione dove abbiamo una gamma dinamica che non è sempre sufficiente a rendere la scena che abbiamo di fronte in particolare quando ci troviamo in uno showroom con le pareti scure e gli spotlight gli spotlight sono sempre brillanti quindi se le pareti sono scure avremo un punto luce accesissimo e delle pareti molto scure quindi una gamma dinamica allucinante diventa difficile da gestire dobbiamo sicuramente lavorare in hdr probabilmente anche a tre stop di bracketing in questo caso non ce n'era bisogno e per fortuna ci contavo che non ce ne fosse bisogno perché anche se mi ero portato la 6d con il 1635 ho preferito lavorare con la 5d perché comunque ha un file d'uscita che è più bello quindi ho preferito avere il file d'uscita che mi privilegiasse in fase di post produzione ho utilizzato quindi il bracketing della 5d che è solo di due stop ma in questo caso era più che sufficiente perché la gamma dinamica tra gli spotlight e gli abiti chiari e il mobilio chiaro e le pareti chiare e i pavimenti e i soffitti chiari è inferiore rispetto che se fosse stato uno showroom scuro quindi ce la si cava tranquillamente l'importante come sempre quando si realizza fotografia hdr è azzeccare bene l'esposizione mediana l'esposizione mediana che è il primo dei tre scatti che vengono realizzati dal bracketing deve essere il più bilanciata possibile quindi potenzialmente dovrà avere qualcosa di bruciato sulle alte luci e qualcosa di bruciato nelle ombre potenzialmente dovrebbe essere esattamente a metà quindi una foto che non va bene perché avrà qualcosa di troppo bruciato su entrambi i lati del nostro histogram però sarà abbastanza bilanciata per consentirmi di avere poi una foto molto più chiara e una foto molto più scura in questo modo con queste tre esposizioni io avrò tutte le informazioni che mi servono per comporre la mia immagine a livello di composizione con fotomerge o merge to hdr all'interno di camera raw di lightroom o di qualsiasi altro software di editing che stiamo utilizzando il fatto di unire tre o più o meno due tre cinque sette tutte le esposizioni che vogliamo il fatto di unire più esposizioni ci darà una gamma dinamica aumentata una gamma dinamica espansa rispetto a quelle che sono le potenzialità del nostro sensore perché appunto nel momento in cui noi scattiamo la gamma dinamica del nostro sensore nativa è quella che sia 12 stop che sia 13 adesso non mi ricordo neanche più quant'è è una cosa del genere siamo sui 12 stop 13 stop mi sembra nel momento in cui noi scattiamo la nostra gamma è quella nel momento in cui noi andiamo a realizzare tre stop sopra e tre stop sotto l'abbiamo espansa abbiamo aumentato la nostra gamma dinamica perché mettiamo insieme tre esposizioni diverse e quindi andremo a pescare le alte luci dall'esposizione più bassa andremo a pescare le ombre dall'esposizione più alta e quindi abbiamo una gamma dinamica espansa ci consente di andare molto oltre i limiti della nostra strumentazione semplicemente ragionando e utilizzando una cosa che è già stata messa lì per noi perché non inventiamo niente il bracketing in camera esiste per questo per darci una gamma dinamica espansa inoltre il fatto di eseguire questa manovra in post produzione con i nostri tre scatti ci darà anche una ricchezza di toni superiore perché noi andremo a miscelare tre esposizioni e quindi andremo ad avere una ricchezza di colore che è superiore rispetto alla fotografia standard ovviamente dobbiamo stare molto attenti a bilanciare bene le nostre esposizioni perché se abbiamo sbagliato il bracketing poi risultano un po' penalizzate tutte le nostre immagini devo dire a questo proposito che utilizzare il merge to hdr direttamente in camera raw è un grandissimo vantaggio perché sostanzialmente mi consente di applicare delle impostazioni di default che viene elaborato dall'intelligenza artificiale dell'applicativo e devo dire che ci azzecca praticamente sempre mi dà sempre un'esposizione di base che è già modificata però è già sulla buona strada io devo veramente fare poche modifiche ma veramente poche e ho l'esposizione perfetta del mio hdr esattamente come lo volevo vi dico che si tratta di file che hanno una ricchezza dinamica e una ricchezza tonale molto superiore e ve ne accorgete da soli nel momento in cui esaminate il peso di questi file perché laddove un mio file nativo quindi un file raw un cr2 piuttosto che un nef piuttosto che non mi ricordo qual è il formato di sony nel momento in cui avete un file nativo che esce dalla vostra fotocamera peserà 20 mega 40 mega una cosa del genere a seconda di cosa c'è dentro poi se è un oggetto piccolo con sfondo bianco peserà di meno perché ci sono meno informazioni se è una foresta una giungla peserà di più perché ci sono più sfaccettature dipende un po' dalla foto però circa siamo tra i 20 e i 40 mega a singolo file per il file di uscita dalla nostra fotocamera nel momento in cui facciamo il merge to hdr salviamo un dng andiamo a vedere quanto pesa 80 mega cioè pesa il doppio se non di più perché pesa il doppio perché ha più informazioni perché abbiamo preso le informazioni da tre foto e le abbiamo condensate in una sola quindi quella foto per forza pesa di più perché contiene più informazioni su ogni singolo pixel quindi è un'immagine più ricca è un'immagine che possiamo maltrattare è un'immagine che poi spingendo sul contrasto e spingendo su vari fader possiamo anche riportare alla sua origine cioè noi da una foto hdr possiamo recuperare una foto sovraesposta una foto sottoesposta o una foto mediana possiamo recuperarle perché contiene tutte le informazioni di quelle tre immagini quindi a seconda di come ce la giochiamo possiamo a quel punto buttare via i nostri tre scatti e tenere solamente il dng dobbiamo fare molta attenzione a un paio di cose però innanzitutto dobbiamo assicurarci che l'allineamento delle nostre immagini sia andato a buon fine perché se stavamo scattando su cavalletto non c'è bisogno di dirgli di provare ad allineare le immagini perché sono già allineate dobbiamo avere un buon cavalletto ed essere certi che le immagini siano giuste però dobbiamo controllare perché se quando noi facciamo il merge si allineano male a quel punto dobbiamo rifarla la seconda cosa che dobbiamo verificare è il parametro del ghosting ovvero nel momento in cui abbiamo all'interno dei nostri tre scatti qualcosa che si muove che può essere un albero che si muove nel vento può essere una tenda che si muove qualsiasi cosa che si stia muovendo dobbiamo andare a vedere come viene miscelata nei tre scatti questa cosa perché se abbiamo una persona che passa sarà in tre punti diversi nelle nostre tre esposizioni dobbiamo andare a verificare dove si colloca e come se provoca delle scie fantasmas gradevoli se provoca degli artefatti che non vogliamo vedere possiamo provare ad andare a implementare il livello di ghosting che vogliamo dare al nostro merge dobbiamo fare molta attenzione perché ho sperimentato che questo processo di ghosting può introdurre molto rumore in certe aree della nostra immagine quindi abbiamo un'immagine finale che è assolutamente compromessa e inutilizzabile a questo dobbiamo stare particolarmente attenti perché dobbiamo fare il merge con i parametri migliori se noi sbagliamo i parametri e buttiamo via le nostre immagini sorgente poi ci teniamo un'immagine che è danneggiata e inutilizzabile dobbiamo stare molto attenti a questa cosa veniamo alle fasi finali quindi all'esportazione e alla consegna nel momento in cui noi abbiamo la nostra esposizione finale lavorata in hdr e con tutti i parametri giusti ovviamente io sto cercando di tenerla con un'esposizione alta sto puntando più alle luci che alle ombre ovviamente perché voglio dare un'idea di luminosità all'interno di questa tellie quindi non le faccio cupe ma le faccio luminose tendo proprio a sovraesporrela dove possibile senza bruciare dettagli perché comunque il fatto di ammiccare alle alte luci non vuol dire che le posso bruciare anzi quindi una volta che ho la mia esposizione finale e mi assicuro anche che il colore sia costante attraverso tutto il mio shooting e quindi mi assicuro che le impostazioni di temperatura e di tinta siano costanti che non vuol dire che devono essere uguali perché su un lato possono essere in un modo su un altro lato possono essere in un altro modo quello che a me interessa è che il colore sia costante durante tutto il mio shooting e quindi che tutte le foto abbiano lo stesso mood non consegno una foto molto fredda e una foto molto calda devono essere uguali le mie immagini perché lo stesso showroom deve essere assolutamente costante il colore e questo molto spesso deve essere fatto o a occhio oppure con un color checker io in questo caso l'ho fatto a occhio perché comunque conosco bene la mia strumentazione conosco lo showroom so che l'UCI ha e quindi sapevo di non correre particolari rischi perché non c'erano macchie di colore diverse ci sono altri casi di cui vi parlerò in video successivi uno shooting che ho fatto questa stessa settimana però non lo metto qui dentro perché ve ne parlo separatamente in cui mi sono trovato a fotografare una situazione con luce mista nel momento in cui fotografiamo con luce mista e quindi magari abbiamo la luce blu che proviene dall'esterno di una sera di un crepuscolo e la luce gialla calda che proviene da un interno con la lampada incandescenza lì abbiamo un problema a mantenere costante la nostra temperatura colore e la nostra tinta perché abbiamo due situazioni così diverse che ogni minimo spostamento della camera può determinare un cambio di bilanciamento del bianco se stiamo lavorando in automatico anche nel caso in cui stiamo lavorando con un bilanciamento del bianco predeterminato è molto probabile che dovremo andare a ritoccare qualcosa perché a seconda di quanto componiamo nella nostra scena su un lato o sull'altro del nostro split di colore può dare una sensazione molto diversa quindi comunque dovremo andare a intervenire cosa di cui vi parlerò in un prossimo video lasciatemi un commento qui sotto per dirmi se vi interessa quest'argomento il video probabilmente uscirà comunque però se vi interessa mi dilungherò un po' di più e veniamo a questo punto alle fasi finali quindi all'export e alla consegna ovviamente è tutto molto semplice a questo punto perché una volta che ho terminato il mio lavoro io vado semplicemente a esportare le mie immagini da camera raw o da lightroom mi premuro di selezionare jpeg come formato e di assegnargli un profilo colore sRGB questa è una cosa che può sembrare un po' limitante e molti di voi diranno ma non hai passato gli ultimi anni a sgridarci e a dirci che dovevamo usare Adobe RGB 1998 la risposta è sì però dobbiamo anche ragionare ragazzi ovvero io mi sono detto queste immagini dove finiscono? finiscono dirette su Instagram pum finita è morta lì oppure finiscono su dei cataloghi su delle brochure dovranno essere lavorate verranno prese in carico da altri team che faranno della post produzione che faranno delle cose della color correction delle composizioni strane verrà stampata su dei cartelloni no niente di tutto questo finirà su Instagram e sul sito punto è morta lì per cui è inutile e dannoso che io esporti in Adobe RGB 1998 così come sarebbe inutile esportarle in TIF o in PSD o in qualunque altro formato diverso dal JPEG perché starei semplicemente esportando un file più pesante nel migliore dei casi ma anche con dei parametri di colore sbagliati per la loro destinazione finale se io devo mettere quella foto su Instagram o sul sito web il profilo colore di destinazione è sRGB quindi io glielo do già quel profilo colore perché se io invece gli do Adobe RGB 1998 viene poi convertito in sRGB nel momento in cui io lo carico e questo significa che sto lasciando l'onere della conversione a una piattaforma a cui sostanzialmente non interessa questa conversione perché a Instagram non interessa se i miei colori si sballano al mio sito web in WordPress non interessa se i miei colori si sballano loro ti offrono una piattaforma su cui caricare delle cose ed è finita lì sei tu responsabile del fatto che i tuoi colori non sballino e quindi se io so già dove devo finire quell'immagine le do già il profilo di destinazione corretto proprio come se dovessi stamparla la metterei in quadricromia è la stessa identica cosa altrimenti che cosa succede che muore qualcuno no non muore nessuno però ci esponiamo al rischio che la nostra foto una volta pubblicata abbia i colori lievemente diversi da come li vedevamo a monitor e in questo caso specifico se usiamo adobe rgb 1998 è quasi garantito che la nostra immagine sembrerà un po' meno satura di come la volevamo un pochettino più scarica e questo è un peccato perché se abbiamo dei colori vivaci se abbiamo lavorato sui colori di quell'immagine per averli in un certo modo se abbiamo una gamma tonale dinamica superiore perché abbiamo scattato in hdr vederci caricare un'immagine con una ricchezza tonale diminuita perché abbiamo sbagliato il profilo colore è veramente un peccato l'ultima cosa che vi dico che è un accorgimento che sto prendendo di recente perché è una cosa che ho sperimentato solo di recente è lo sharpening per i monitor ovvero all'atto dell'esportazione io posso selezionare un'opzione che mi consente di andare a rendere la mia immagine un pochino più nitida con dei parametri diversi quindi la posso rendere più nitida per la stampa per la stampa su particolari tipi di carta oppure per i monitor secondo voi che cosa ho scelto? ho scelto per i monitor ovviamente perché questa immagine sarà vista esclusivamente sui monitor gli vado a dare questo parametro di sharpening per i monitor e vi dico anche che glielo do alto perché ho fatto i miei esperimenti e su immagini come queste secondo me ci sta uno sharpening abbastanza evidente perché comunque sono immagini di un ambiente interno per cui i dettagli delle immagini sono piccoli nel momento in cui noi abbiamo una foto abbastanza grande con dei dettagli piccoli che io gli dia un pochino di nitidezza in più va bene perché mi porterà fuori quei dettagli piccoli se avessimo un ritratto da molto vicino sarei stato molto più cauto a dargli tutta questa sharpening perché lì avrebbe portato fuori anche dei difetti sarebbe stato troppo evidente ma su una cosa del genere sugli interni secondo me ci sta assolutamente una scelta di questo tipo ovviamente stiamo all'occhio non deve essere troppo perché comunque nella fotografia di interni in real estate non si usa la clarity per tirare fuori i dettagli perché è inelegante non è assolutamente funzionale allo scopo che ci prefiggiamo con il nostro servizio fotografico quindi noi dobbiamo rendere l'idea di una scena più naturale possibile se andiamo a pestare giù duro di clarity andiamo a tirare fuori innanzitutto degli artefatti andiamo a tirare fuori degli aloni che sono completamente innaturali e completamente fuori luogo in un tipo di fotografia descrittiva di questo tipo e facciamo una figura un po' barbina perché non è assolutamente professionale usare la clarity in quel modo la clarity si può usare magari selettivamente con un pennello per tirare fuori un pochettino di enfasi negli occhi di un ritratto ma in un tipo di fotografia di questo tipo non si tocca proprio la clarity ovviamente al lato della consegna come già avrete immaginato si carica tutte le foto bel pacchetto sui transfer e si manda al cliente questa è la fase più semplice perché la sappiamo già fare tutti è assolutamente facile e indolore da gestire dobbiamo solo fare molta attenzione che poi il cliente scarichi veramente le immagini perché sapete quante volte capita che mandiamo un pacchetto il cliente dice ah sì sì lo scarico nel weekend poi non lo scarica lo fa scadere e dopo mesi dice senti mi rimandi tutto perché le ho perse non è che le hai perse è che non le hai mai scaricate bischero quindi dobbiamo anche fare attenzione a questo aspetto io archivio sempre tutto soprattutto servizi fotografici che mi piacciono anche come questo queste sono delle belle immagini che comunque ho anche piacere di conservare nel mio archivio quindi non buttando mai quasi niente quando un cliente me le chiede io ce le ho e prontamente dico ti servono ancora te le ridò poi ovviamente anche lì dobbiamo essere furbi perché quando un cliente dice eh guarda non ho più le foto possiamo giocarcela in due modi non voglio indurvi a essere dei delinquenti con questo e attenzione però possiamo semplicemente ridargli le foto e dirgli toh ciapa queste sono le foto vecchie e di solito questa cosa va comunque fatta perché se ce le abbiamo gliele diamo ovviamente se sono passati i 90 giorni siamo autorizzati a non avercele più legalmente dopo 90 giorni il fotografo può buttare le foto dopo che le ha consegnate da 90 giorni non è più tenuto ad averle però anche se ce le abbiamo ancora noi gliele ridiamo però io personalmente gli butto sempre lì un eh sì comunque sarebbero anche da rifare perché nel frattempo è passato del tempo e molte volte il cliente dice sì guarda è vero perché comunque la volta che sei venuto magari non avevo ancora montato la parte esterna piuttosto che ho migliorato un aspetto quindi torno e ne faccio di altre e quello è un lavoro in più per noi quindi quando un cliente si fa vivo per dire che non ha più le foto secondo me va bene ridargliele però va bene anche sempre buttargli lì un eh però bisognerebbe anche rifare qualcosina perché molte volte sarà più che ben disposto a farci fare delle foto nuove se invece non ce le abbiamo più a quel punto è la nostra unica possibilità quella di dirgli guarda non ce le ho più vengo a fartene delle altre ovviamente pagato perché non è che se cioè se io vado a dire al mio meccanico guarda lo so che tu mi hai già cambiato la leva del cambio che si era rotta però io l'ho persa la leva del cambio che mi hai messo lui non è che me la rimette gratis perché io l'ho persa quindi torno a farti delle altre foto ma me le paghi di nuovo ovviamente si può ovviamente ragionare sul fare un prezzo di favore magari se uno esce più volte perché comunque quello dipende anche dal rapporto che si ha con il cliente se io ho un cliente da cui vado spesso a certo punto gli faccio un forfè perché mi fa lavorare spesso cliente che mi chiama una volta invece lo picchio giù duro e glielo dico però glielo dico al mio cliente che mi ha chiamato una volta sola e gli dico guarda tu se mi fai venire una volta sola la cifra è questa se mi fai venire sei volte la cifra è di meno per singola uscita quindi pensaci perché puoi avere un singolo shooting dico una cavolata vengo una volta ti chiedo mille euro però se tu mi chiami cinque volte io non ti chiedo cinquemila euro te ne chiedo quattromila magari quindi ci hai guadagnato questi sono tutti piccoli accorgimenti che poi si maturano anche durante l'esperienza e a seconda della propria esperienza quindi il percorso che faccio io mi porta a trarre queste conclusioni ma il percorso che fa un'altra persona può portarlo a trarne diverse perché magari un fotografo che fa shooting da trentamila euro è molto più ben disposto a dire guarda io di volta in volta se mi fai venire due volte ti faccio la metà e per forza perché la metà di trenta è quindici quindi se mi fai venire una volta prendo trenta se mi fai venire due volte prendo trenta comunque ma il mio anno è già in saccoccia in più ho due lavori da mettere a portfoglio in quel caso ci starebbe a seconda di quanto si guadagna di qual è il target dei nostri clienti e la nostra esperienza ovviamente andremo più in una direzione piuttosto che in un'altra in questo caso ovviamente lo shooting si è concluso bene le immagini andavano tutte bene io credo che siano state scartate dal cliente solamente tre o quattro immagini quindi uno shooting di cinquanta immagini fondamentalmente erano buone quarantasei quarantaquattro una cosa del genere quindi devo dire che è stata una cosa anche molto soddisfacente da realizzare da portare a termine divertente perché comunque si è lavorato bene in un clima assolutamente di distensione con anche la collaborazione attiva della cliente che in più di un'occasione ha voluto proprio collaborare con me nel dire guarda la composizione la facciamo così però tagliami lì a quel particolare che non voglio vedere invece includimi quell'altra cosa che è importante da far vedere nel punto vendita quindi è un lavoro diciamo a due mani e mezzo perché alla fine la maggior parte delle cose tecniche le ho fatte io però c'è stato quell'aspetto di composizione per il quale la cliente ha voluto e sono stato ben contento di farla partecipare attivamente a questo shooting in maniera tale che ho avuto un feedback per realizzare certe cose magari con un occhio che io non ho perché io non sono tanto meno esperto di abiti da sposa ma non ho neanche ben presente come è stato congegnato il negozio quindi avere lì la cliente e l'architetto che ha realizzato il negozio che mi davano degli input e mi dicevano guarda questo è un dettaglio architettonico importante su cui abbiamo lavorato è importante da mettere in luce quello è un plus quindi è anche importante ascoltare i propri clienti perché ci sono i clienti rompiscatole ci sono i clienti che parlano perché hanno una bocca da quando sono nati ci sono anche i clienti che ti dicono una cosa perché conoscono il loro lavoro meglio di te io conosco il mio lavoro meglio di loro infatti chiamano me per fare le foto però loro sanno la loro parte meglio di me quindi ci sono dei clienti che bisogna ascoltare quando ti dicono una cosa quando ti dicono guarda io la vorrei in quel modo lì bisogna ascoltarli poi c'è modo e modo di ascoltare un cliente perché per esempio io di solito ho questa linea questo tipo di approccio io ho la mia idea secondo me la foto migliore possibile è questa tu la vuoi fatta in un altro modo perché secondo te viene meglio in quella maniera lì facciamole tutte e due perché se le facciamo tutte e due io ho vinto in ogni caso perché quando io arriverò a casa potrò dare al mio cliente la mia visione e la sua visione e sarà il cliente a decidere qual era la migliore delle due ma alla fine alla consegna al cliente non interessa chi ha vinto non c'è un segnapunti per dire era meglio la mia era meglio la tua per me invece questo è un doppio punto per me perché io gli ho dato sia la mia visione sia la sua visione quindi il cliente non potrà che essere contento perché gli ho dato la mia che sicuramente è buona e gli ho dato la sua che era quella che voleva il cliente sarà sicuramente soddisfatto io ho fatto due scatti invece di uno e magari ho anche capito delle cose perché facendo quella modifica che il cliente mi ha detto ho imparato una cosa ho imparato che certi tipi di scatti hanno bisogno di quel tipo di attenzione di quel tipo di accortezza quindi ci ho guadagnato sotto tutti i punti di vista ad ascoltare il mio cliente in questo caso ovviamente sta a noi capire quando un nostro cliente va ascoltato e quando sta dicendo delle castronerie vi faccio un esempio su tutti una volta mi è capitato un cliente che in un ambiente tutto sommato simile a quello di questo atelier a un certo punto se ne viene fuori e mi dice senti ma riusciamo a fare delle foto con sfondo nero e dici ma siamo in un ambiente tutto a vetri fuori e giorno è tutto molto luminoso mi stai sopravvalutando perché io qui non ho modo di farti un fondale nero e se lo volevi dovevamo parlarne prima perché io mi sarei organizzato e mi sarei portato un rotolo di carta nera cosa che non ho portato perché siamo in un atelier dove è tutto bianco non ho pensato di portare un nero però a quel punto è colpa del cliente perché non è stato chiaro prima oppure gli è venuta un'idea dell'ultimo minuto lì noi non siamo in grado di sopperire a queste pensate ma lì quello è un cliente da non ascoltare perché un cliente che in un ambiente bianco se ne viene fuori con ma facciamo fondo nero non dico che bisognerebbe prenderlo a sberle ma probabilmente l'avete già pensato voi quindi io non ho detto niente a questo punto vi lascio con qualche immagine in più tratta da questo shooting vi lascio con un video che riassume brevemente tutti i tratti salienti del servizio fotografico realizzato all'interno del negozio vi ripeto un lavoro a cui sono già affezionato perché comunque mi è piaciuto sono stato contento di farlo e sono contento delle immagini di come sono venute quindi vi lascio questo mini showreel da farvi vedere che è una cosa che rimane comunque anche a me perché è una cosa che riguarderò volentieri negli anni se avete qualche domanda su questo particolare shooting o su altri io vi invito ovviamente a lasciarmi un messaggio giù nei commenti sarò lieto di rispondere a tutti quanti ricordatevi anche di lasciare un like di incoraggiamento a questo video e magari di iscrivervi e attivare anche la campanella perché se un contenuto come questo vi è servito vi ha insegnato qualcosa tenete conto che ce ne saranno diversi perché pubblico abbastanza regolarmente contenuti di questo tipo quindi se state approcciando o se avete già approcciato il mondo della fotografia e dell'immagine avere comunque degli aggiornamenti di questo tipo può essere un plus per la vostra esperienza anche come professionisti perché andando a vedere quali sono state le problematiche gli errori anche che ho commesso io potete andare a prevenire questi errori e potete andare a realizzare dei servizi fotografici non uguali ai miei però basandovi su quello che vi ho detto io quantomeno sapete quali sono i rischi quali sono le problematiche e sapete come presentarvi preparati per un servizio fotografico di diversi tipi che vi andrò via via a elencare campanella e bottone sono qui sotto io vi aspetto nei commenti e vi do appuntamento ovviamente al prossimo video vi andrò via via